Una micro videocamera pagata poco più di 2€ Full HD Sto parlando della SQ11 Mi dispiace dirlo ma se l'avete pagata molto più di 6€ Non avete fatto un buon affare Poiché questo è il prezzo di AliExpress Mentre in sottocosto io sono riuscito ad averla a 2,30€ e qualcosa Quindi poco più di 2€ Vediamo come si presenta Allora intanto questa è la confezione e tutto quello che troviamo dentro Abbiamo due alloggi Ecco qua Il cavo E l'oggetto Che io seriamente mi domando Come fa a rientrare nel costo di 2€ Ok Allora abbiamo due tastini guardate Questo è quello dell'accensione Qui c'è M Abbiamo un alloggiamento per la microSD Allora leggiamo le caratteristiche Vediamo che i video vengono fatti in AVI M JPEG di codifica Con risoluzione HD o Full HD a 30fps Possibilità di fare foto in JPEG 4 terzi Non è male Non è assolutamente male per il costo Sulla carta Lo andiamo a testare ovviamente fra poco Interessante il support system che arriva fino al vista Questo ci fa capire che è parecchio vecchio come hardware Batteria da 200 mAh Working time 100 minuti più o meno Quindi non male Ok Quindi andiamo subito a testarla Allora questa è la qualità video Proviamo anche con una luminosità migliore Ecco qua E questo è l'audio Che ovviamente è pessimo Però per questo prezzo ragazzi Vi aspettavate il Dolby Surround Questa è la stanza La mia coniglietta Ora c'è anche la modalità per vedere l'infrared Ma non ho capito bene se si attiva così O se questo chiude la registrazione Quindi in realtà per questo prezzo non è male C'è anche la modalità sensore di movimento Ovviamente allora con il tasto accensione spegnimento Si va appunto ad accendere spegnere o a avviare la registrazione Con il tasto M si cambia la modalità Quindi fra le foto, video, 720p e 1080p La qualità è scarsa Come spycam giusto per Non è malaccio Avete visto che comunque se la muovete tanto Si vede malissimo È fatta più che altro per stare ferma Per appoggiarla in un posto appunto come spycam Come trapcam no? Ad esempio nel bosco è possibile catturare degli animali Quindi può essere un valido strumento di ausilio Appunto pagato 2-6 euro Non di più Ecco perché la qualità è quello che è Un saluto